Copertina Lifestyle, il palcoscenico televisivo attento ai messaggi positivi che arrivano dallo stile contemporaneo. Filo conduttore della puntata, un evento benefico, dedicato alla solidarietà, promosso dalla Fondazione ASM On Luce per la salute dell'infanzia e della quale presidente Marinella Di Capua. Un evento con tante personalità e un concerto da favola con Arianna, la voce di Walt Disney, la fantastica interprete di musical La Bella e la Bestia. Anche la moda in copertina con le tendenze di anticipazione inverno 2012 dedicate all'universo maschile e proposte dagli stilisti italiani più noti per il loro gusto e la loro creatività. La passarella delle celebrità non manca mai in copertina e poi l'annuncio di un grande appuntamento da segnare in agenda dal 7 al 18 marzo a Milano nel teatro Sala Fontana. Il grande attore eduardiano Gennaro Cannavaciuolo che interpreta Volare, concerto a Domenico Modiglio.